What's up guys, qui è il vostro Naked che vi parla ragazzi Siamo tornati con un nuovo video, signori miei nazionali oggi qui Perché duddoni miei mi tocca parlarvi delle armi a corto raggio Bene sì perché ieri c'è stata una piccola modifica Quindi oggi mi sono dovuto svegliare presto per... Correggerla Bene sì perché sono cambiate alcune cose, anzi Una sola cosa Appena iniziare ragazzi, comunicazione di servizio, tra l'altro molto importante Finalmente sono uscite le cuffiette che utilizza il nazionale Sono disponibili le nuovissime ROG Cetra True Wireless Speednova Si chiamano così, non è uno scioglilingua Infatti Speednova sta per la nuova tecnologia che c'è all'interno delle cuffie Che gli permette di essere collegate al computer, alla Playstation Con il suo dongle che troverete all'interno della scatola Quindi una chiavettina collegata alle cuffie che mette la latenza Quindi la trasmissione dell'audio con latenza 0 Inutile che vi dica cuffie studiate per il gaming Qualitativamente stiamo parlando di una cuffietta che non ha nulla da invidiare ai cuffioni che usiamo tradizionalmente Soltanto avete la comodità della cuffietta che potete usare per giocare Ma potete tranquillamente usarla tutti i giorni anche collegata al telefono Perché oltre ad avere il dongle per collegarlo ai vostri dispositivi dove giocate Hanno anche il bluetooth quindi potete usarle dal telefono La batteria vi dico già tramite il dongle Quindi se la usate con la Playstation o con il computer è di circa 6-7 ore Ovviamente sua custodia è ricaricabile RGB invece collegate col bluetooth superano le 24 ore di autonomia Raga bellissime Touch ovviamente Adesso è una veloce presentazione Poi vi farò magari un video più dettagliato Comunque sia raga vi lascio il link sotto in descrizione Se volete vedere le nuove cuffie più belle presenti sul mercato PS le uso da due mesi e non le cambierei con nulla al mondo Ovvero il nerf al DG58 Ma attenzione non all'arma base Ok cioè l'arma sostanzialmente che vi ho fatto vedere con il video di ieri Ma precisamente al kit di conversione Il Jack Night Shade ok Quindi come potete vedere il danno massimo è diminuito a 30 Il calo da 33 Quindi gli hanno tolto 3 punti di danno massimo Gli hanno tolto 3 punti di danno medio E 2 punti anzi 4 punti di danno corto raggio E ovviamente gli hanno anche diminuito la portata E gli hanno diminuito anche il moltiplicatore di danno alla testa Ma solo raga vi ripeto per la seconda volta Il kit di conversione L'arma base è rimasta forte come il video che vi ho fatto vedere ieri Ah e c'è stata una piccola modifica anche sul Sulle pistole Sì pistole Sui fucili alla Volker Texas Naked Che queste vi ho già portato Che hanno sistemato A quanto pare ogni tanto Sparavi ma i colpi non entravano Nella giusta direzione Ma ovviamente Dudduloni No non siamo solo qua per questo Ma siamo qua per allora capire Dopo questo benedetto nerf qual è l'arma da utilizzare Chiaramente quel kit di conversione di DG Non è che adesso Magicamente non fa più danno È ancora abbastanza forte Non è sgravato Perché chi l'ha utilizzato sti giorni Aveva notato che Era un po' Too much Ecco Allora vi ho messo già delle mitragliette qua Vi ho messo le basic Poi come al solito Facciamo inseriamo Facciamo modifiche AMR9 Striker9 Vasp Swarm Rival9 Striker e Striker9 Qua però manca Manca la Vasp9 Ok Messo anche la Vasp9 C'è già qualcosa di particolare Che in realtà è già così da un po' Ovvero Che in realtà L'arma con i TTK Migliore Da 0 a 6 metri È la Vasp Swarm Ok Perché Effettivamente lo è È un'arma che comunque non vi consiglio raga Perché Sì è forte Ma da 0 a 6 metri Perché Non è che poi Perde un po' di danno Dopo 6 metri Dopo 6 metri Perde tutto il danno Come potete vedere Cioè si impenna E Passa da Da 605 millisecondi A 770 Che è tantissimo raga Quindi è un'arma che a prescindere Non vi sconsiglio Perché dovreste fare Un gunfight Massimo Entro 6 metri Cosa che Si capita Da corto Però Tante volte È proprio lì il problema Perché se tu spari a 6 metri Fai un danno Se spari a 7 Fai un altro danno Che è quasi il doppio Quindi È quello il problema Sconsigliato Dopodiché abbiamo Striker9 Ok Che la ritengo Attualmente essere La migliore Mitraglietta Sia perché Cioè di danno Sia per quanto riguarda Il movement È molto vicina Sia alla Vasp9 Sia allo Striker normale Ma in realtà Anche alla Rival9 Perché come potete vedere Dai valori Di Di TTK Sono tutte Esattamente lì Chiaro Striker9 Ha una marcia in più Però Anche la Rival Che prima era Letteralmente Inutilizzabile Adesso Si è beccato Ha una Una lieve miglioria Dopodiché A seguire Abbiamo L'HRM9 Che come potete vedere È stata Veramente Nerfata Perché adesso Ha un TTK Parecchio alto E poi Abbiamo la MR9 Come ultima Mitraglietta Quindi HRM9 E MR9 Sconsigliate Ok raga Ho tenuto le due mitragliette Che ritengo Le migliori Quindi Striker9 E Vasp9 E la messe Contro L'MCW Kit di conversione E il BP50 Ovviamente Kit di conversione Come potete vedere Duduloni Quando le mettiamo Contro i kit Un po' i grafici Cambiano Allora Il kit migliore Rimane quello Dell'MCW Soprattutto perché Anche dopo Questa patch Quella di mercoledì Il'MCW È stato Potenziato Quello base E quindi Indirettamente È stato potenziato Anche il kit Di conversione Mentre quello Del BP Molto forte Però qua Dopo i 12 metri Come possiamo vedere Pecca un po' Perché effettivamente Perde un po' Di potenza In realtà Fine a 12 metri Allo stesso TTK Praticamente Dell'MCW Perché come potete vedere Si parla da 600 contro 609 La differenza È come se Non esistesse Ok È soltanto Che l'MCW Va oltre i 20 metri Il BP 50 invece Non che ve lo sconsiglio Però C'è da fare attenzione Cioè In realtà Tra i due kit Di conversione Il più Consistente È quello Dell'MCW Ok guys Vi ho aggiunto Anche delle pistole Perché ci sono delle pistole Che sono Fenomenali Molto bene Ho ottenuto Vabbè Striker Wasp E l'MCW Con il kit di conversione Ho messo le 9mm Le Daemon Le pistole Non automatiche Di MV2 La Core 45 Con il kit di conversione E la Wasp Stinger A Kimbo Molto bene raga Allora Già Come possiamo vedere Wasp Stinger A Kimbo Da cross range A 440 Millisecondi Di time to kill Che è sotto il mezzo secondo Inutile che vi dica Che è una roba fuori di testa Però qua c'è un Se e un ma Grandi quanto una casa Perché Come ve l'ho sempre detto Questo 440 Significa che voi Non dovete Cioè Tutti i colpi Vanno a segno Con la Kimbo in mano I colpi possono andare Tutti a segno Solo se Praticamente Ce l'avete davanti Ma non davanti Inteso 2-3 metri Cioè davanti a 20 cm Ok Che proprio Gli appoggi addosso E effettivamente Fa entrare tutti i colpi Ma con la Kimbo Sapete che il raggio d'azione È 0-5-6 metri Massimo Ma proprio Molto tirato E quindi Si forti raga Da tenere sott'occhio Però Non troppo Consistent Il stesso discorso Un po' della Vasp Svarm Di prima Chiaro che Se volete usare un'arma Che è effettivamente Sgravatissima Da corto raggio Le Vasp Stinger A Kimbo Possono fare al caso vostro Però Sono tutto Purché Consistent Questo è da sottolineare Invece Al contrario Del Vasp Stinger Che ho appena tolto Dal grafico C'è un'arma Consistent Che è fortissima Ovvero La Core 45 Molto bene Con il kit di conversione Quello che Spara un colpo di uscita Un colpo di entrata Che però Se spammate Diventa Automatica Che comunque È un'arma Utilizzabilissima Attenzione 525 Millisecondi Di time to kill Contro I 600 Dell'MCW Contro I 630 Dello Stryker 9 Non so se rendo l'idea Raga Qua stiamo parlando Di un'arma Che Sulla carta Li demolisce E non sto parlando Di demolirli Fino a Una Una tot distanza Cioè magari 10-15 metri Qua si parla di un'arma Che li demolisce Tutte le distanze Che è chiaro Che poi Dopo 50 metri Lo guardiamo Perché Non ci arrivi A sparare A quella distanza Però È fortissima Questa È da tenere Sott'occhio È un'arma un po' particolare Raga Non è per tutti Perché Non è comodissima Che non è una mitraietta Che tiene premuto Questa Di spammare Si muove un po' Particolare Però Cioè la ritengo Più affidabile Magari di una Stinger a Kimbo Ok guys Abbiamo fatto un bel Recap Allora per quanto riguarda I mitraiette Raga vi dico Molto tranquillamente Stryker 9 E Vasp 9 Se volete andare sul sicuro La migliore Proprio anche per facilità Di utilizzo La Stryker 9 La Vasp Un pochino più Particolare da usare Poi se volete usare Un'arma Effettivamente Che smarmella I nemici Provate La Core 45 Con il kit Di conversione Ovviamente Dudduroni miei Lunedì arriverà Il video Con tutte le build Quindi Io non posso solo Che augurarvi Buon weekend E mandarvi Un abbraccione Bella ragazza